amici modellisti benvenuti a questo nuovo appuntamento sempre su model on passion e oggi parliamo delle parti che compongono una nave o comunque un imbarcazione il video insomma sarà un pochettino più lungo rispetto diciamo a quelli precedenti e in particolar modo sarà anche forse in alcuni casi un pochettino più noioso ma l'obiettivo insomma di questo video è quello di andare a parlare non semplicemente delle parti di una nave ma qual è l'importanza che bisogna dare ad ogni singolo componente ad ogni singola parte per la costruzione in miniatura per la quantità ovviamente di informazioni che esistono su tutte queste cose che tra poco andremo a citare sicuramente io andrò a fare altri video molto più specifici su ogni singolo componente quando incomincieremo insieme la costruzione di modelli navali tuttavia prima ovviamente di intraprendere questo percorso mi è sembrato doveroso iniziare una serie di forme introduttive soprattutto per coloro che non hanno le fondamenta non hanno le basi e quindi è utile parlare appunto delle delle componenti di una nave allora prima cosa in assoluto c'è la famosissima chiglia ora la chiglia che cos'è la chiglia è l'abc di un'imbarcazione sia essa antica sia essa moderna sia essa in legno sia sia essa in acciaio sia essa in qualsiasi materiale la chiglia è l'abc nella costruzione navale questo perché perché la chiglia è una linea immaginaria ma è una linea matematica è una scala noi ne abbiamo parlato della scalatura graduata quindi con dei numeri da 0 a 1 tot a seconda della lunghezza della nave dove vengono identificati tutti gli elementi strutturali e quelli alla quale poi vengono aggrappati le forme strutturali quindi gli accessori gli interni gli esterni qualsiasi cosa all'interno del processo di costruzione di una nave ma non soltanto di costruzione anche per esempio di riorganizzazione o di ristrutturazione di un'imbarcazione quindi la chiglia si muove da prua poppa cioè davanti a indietro alla nave in senso longitudinale quindi per tutta la lunghezza della nave e qui io ho semplificato le tre tipologie di chiglie che noi possiamo trovare nella prima quella in alto abbiamo la chiglia come può essere identificata all'interno di un disegno tecnico navale al centro abbiamo un modo nel quale noi possiamo sezionare una chiglia nel momento in cui dobbiamo realizzarla e nell'ultima un ulteriore modo nel quale noi possiamo andare a sezionare la chiglia all'interno di un processo costruttivo questa qui viene comunemente definita falsa chiglia può essere in questo modo come la potete vedere quindi con questo tipo di spessore ma può anche essere più doppia io ovviamente vi rimando all'approfondimento che farò il prima possibile e che riguarderà proprio il discorso della chiglia ora le parti di una nave sono tantissime io le divido in genere in principali fondamentali e secondarie ma comunque io qui in questa slide sono andato a segnare quelli che sono le parti veramente importanti nella costruzione navale dove noi dobbiamo avere quante più informazioni possibile per poter realizzare un buon prodotto per realizzare una nave in piccolo comunque un modello che sia quanto più fedele alla realtà anche perché noi parliamo non di perfezione al 100% ci può anche essere la perfezione assoluta ma la perfezione diciamo è più facile ottenere un qualcosa che si avvicini anziché un qualcosa che sia al 100% allora la prima cosa importante che io voglio andare a sottolineare è la parte posteriore della nave parte posteriore della nave che è la poppa io ve l'ho indicata questa è una la parte nel quale dobbiamo andare a costruire quello che sarà poi il castello di poppa nel caso dei vascelli legno tutto l'impianto propulsore nel caso delle navi moderne quindi la poppa è la caratteristica principale visiva di una nave perché come se fosse una sorta di firma spesso ci si riconosce una nave soprattutto da com'è la struttura poppiera la prua che invece è la parte avanti della nave qua abbiamo stesso discorso la struttura propria della nave e anche quello che è l'impianto di manovra anteriore della nave anche la poppa l'impianto diciamo di manovra posteriore ma la prua o prora rimane diciamo nella mentalità insomma nel gergo manianisco l'elemento principale insomma delle manovre e abbiamo ovviamente l'impianto delle ancore poi abbiamo la carena la carena è la parte sommersa della nave detta anche opera viva quello che noi troviamo al di sotto dell'acqua e quindi come tale trovandola al di sotto dell'acqua non lo andremo a vedere ma è fondamentale perché deve rispecchiare quelle che sono tutte le regole di costruzione navale di ingegneria navale per quanto riguarda un corpo immerso nell'acqua quando archimede cominciò a mettere il principio del galleggiamento dei corpi poi abbiamo i ponti che possono essere ponti delle sovrastrutture cioè quelle superiori o ponte di coperta al ponte principale sono importanti perché danno chiudono la forma principale della nave non solo danno anche quelle che sono la robustezza e la forma della degli accessori l'impianto propulsione con le eliche questo soprattutto per le navi moderne e poi completiamo con l'alberatura che esiste sia nei vascelli in legno ma un'alberatura esiste anche per le navi moderne e si chiama alberatura e poi il fumaiolo che anche qui è un contraddistinguere l'imbarcazione e la nave in maniera diciamo così importante basti pensare non lo so le navi da crociera moderne come riconosciamo la costa crociere con i fumaioli gialli per esempio rispetto ad altre navi quindi può essere un elemento contraddistinto per il marketing di un'azienda anche per le barche più piccole noi abbiamo un vero e proprio gergo abbiamo anche qui dei nomi possiamo avere per esempio per una barca a remi lo scalmo la falchetta lo specchio di poppa anche in questo caso la barra del timone la femminella che serve a reggere il timone la guiotto il timone la chiglia anche anche le barche piccoline ce l'hanno il corrente il dritto di prua il fasciame che è tutta la struttura che poi di cui poi ne parleremo ordinate che la struttura che permette di dare la forma all'imbarcazione il banco il paiolo lo stroppo e il remo stessa cosa vale per le barche diciamo a vela in più ovviamente c'è tutta la nomenclatura che riguarda l'alberatura quindi la drizza della randa la penna la stecca la randa la balumina lo straio il boma la prolunga la cinghia drizza del fiocco la caduta albero fiocco la sartia o sartia galloccia scotta del fiocco scotta della randa e strozza scotta quindi tutta questa parte della delle vele ne parleremo quando poi faremo l'approfondimento proprio sulla sull'impianto velico per quanto riguarda sempre la chiglia abbiamo queste parti da dover ricordare sia prua che poppa cioè quando finisce quando inizia la chiglia abbiamo il dritto di poppa o il giro di prua o dritto di prua il contro dritto di poppa e contro dritto di prua il la chiglia vera e propria la costola e il paramezzale che è una sorta di rinforzo della chiglia stessa qui viene un attimino sintetizzato quello che invece la struttura non più longitudinale che è data dalla chiglia ma la struttura trasversale di una imbarcazione vedete qui nella struttura diciamo così di base abbiamo la chiglia in basso abbiamo tutta la zona dell'opera viva o della carena quella che è immersa poi abbiamo l'opera morta che si trova nella parte superiore e poi abbiamo tutta la struttura del fasciame che comporta proprio la diciamo il guscio insomma di tutta la struttura portante e tutte le parti che compongono l'ordinata anche sull'ordinata noi faremo un approfondimento a parte proseguendo appunto nel concetto delle nostre ordinate non sono altro che una struttura come abbiamo detto prima trasversale e sono numerate da zero a un tot numero a seconda lunghezza della nave e vanno a comportare l'ossatura dell'imbarcazione stessa sia per le navi in legno che per le navi moderne per le navi moderne ovviamente noi abbiamo delle particolarità anche queste strutture cambiano a seconda della lunghezza della nave stessa ecco come si presenta per esempio la chiglia di una nave moderna mentre per le navi in legno la chiglia non è altro che una linea quindi una struttura molto più sottile rispetto a quella moderna nelle navi moderne la chiglia non è più soltanto l'asse centrale ma è l'insieme dell'asse centrale come vediamo qui ha tutta una struttura di montanti e madieri che sono le strutture longitudinali e trasversali che fiancheggiano la linea centrale di chiglia questo per il semplice fatto che le navi moderne sono molto più grandi rispetto a quelle ultime e hanno una struttura che necessitano un fondamento molto più ampio una base molto più ampia rispetto alla sola chiglia qui è molto più visibile la chiglia centrale coperta purtroppo da quel pannello bianco e tutta l'altra parte di chiglia a destra e a sinistra con i montanti e con i madieri in questo caso nascosti da quella che è il moderno fasciame cioè l'impianto d'acciaio questa è la differenza di struttura che poi faremo nel dettaglio quando parleremo di differenze di strutture tra moderno e antico e la differenza sta nel fatto che le navi in legno presentano una struttura che dovevano semplicemente mantenere l'impianto velico e tutti gli accessori superiori mentre le navi moderne oltre a mantenere la struttura propria della nave devono mantenere una sovrastruttura che nelle navi diciamo antiche c'è ma è completamente diverso rispetto a quelle moderne in più devono andare a sopperire al movimento irregolare di passeggeri e cose sulla nave stessa quindi il meccanismo è diverso altro componente importante l'alberatura che esiste come abbiamo detto sia nelle navi antiche che nelle navi moderne con la differenza è che con le navi antiche l'alberatura era legata alla manovra della nave oggi le alberature non sono più legate alle manovre ma sono legate generalmente ai sistemi di comunicazione ma poi li andremo a vedere con calma infine parliamo della propulsione anche qui per le navi moderne non abbiamo più le vele come propulsione ma gli impianti velici, impianti pardon, elici anche le eliche hanno delle proprie diciamo dei propri nomi ma anche le eliche ormai stanno diventando non più soltanto delle semplici pale ma dei sistemi di propulsione molto avanzate il modellista ne deve comunque tener conto quindi per concludere quali sono le tre parti? la struttura portante, la sovrastruttura e gli allestimenti queste tre parti saranno l'oggetto vero e proprio di quello che sarà il nostro secondi appuntamenti il 2.0 del nostro modellismo nel quale cercheremo di capire bene come andare a realizzare in maniera professionale e tecnica queste tre parti amici modellisti grazie di avermi seguito mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e al presto al prossimo video un abbraccio